Il numero dei nuovi positivi in provincia di Arezzo tocca la vetta più alta in due anni di pandemia. Tra le 14 del 3 gennaio e le 14 del 4 gennaio 2022, i nuovi positivi nell'Aretino sono 1.753. In tutta la ASL sud-est, che comprende Arezzo, Siena e Grosseto, si superano i 4.500 nuovi positivi. I tamponi effettuati in provincia di Arezzo tra molecolari e antigenici sono un numero altissimo, 7.895. Si arriva a quasi 18.500 in tutta la ASL sud-est. Venendo al dato comunale, nelle ultime 24 ore rilevate, ad Arezzo città ci sono 438 nuovi positivi. Tra i comuni con il maggior numero di contagi in provincia ci sono Montevarchi con 168 e San Giovanni Valdarno con 115. In bolla Covid salgono i ricoveri, 40 ai pazienti ricoverati. Al San Donato di Arezzo circa l'80% non è vaccinato, il 20% ha invece una dose o due da più di 120 giorni. Calano i ricoveri in terapia intensiva Covid. Oggi sono soltanto due i pazienti, a differenza dei quattro di ieri. Sono tutti non vaccinati.